3, 2, 1, benvenuti ragazzi, benvenuti in paradiso dello sport e oggi stiamo per parlare di uno dei ruoli più strani nel calcio ovviamente anche uno dei più difficili del tempo, ovviamente stiamo a parlare dell'arbitro una delle persone più chattive di sempre, cioè immaginate, voi che sei giocatore, te lo vedete quando l'altro, cosa fate? l'estate, come se, come per dire, era fallo, vabbè e oggi, quello di cui andremo a parlare oggi, quello di cui andremo a parlare oggi saranno i vantaggi e gli svantaggi dell'arbitro allora, appena di cominciare, beh, tutti i rifusi avversari, la devono smettergli di sta cosa, che la lui si convagliata, la devono smettere la deve smettere proprio, sta cosa, già sta cosa mi piace sta cosa, non mi piace per niente l'unico vantaggio è che può comandare lui in campo, non comanda i giocatori, ma comanda l'arbitro in campo, anzi, secondo vantaggio e questo vantaggio è una regola che tanti anni fa valeva cioè, quando la palla tocca l'arbitro, di testa, di piedi, che cosa viene convalidato adesso non funziona più sta cosa il primo svantaggio dell'arbitro, prima di tutto è gli errori bisogna di errori, cartiglino rosso, calci di rigore inesistenti ah, secondo svantaggio, ad esempio, usare il VAR per chi non sapesse il VAR è un sistema che ti permette di vedere come le scene, come sono i contrasti quindi, come ti fa fare un po' di tutto beh, allora, vi dico una cosa c'è sta cosa, io contro il VAR, io sono contro il VAR, secondo me veramente sarà una cosa fastidiosa ma il VAR ogni volta non cambia mai spero che il video vi sia tantissimo mi piace iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo al prossimo video bello, ragazzi bello, ragazzi bello, ragazzi grazie